Rispetto all'effetto del concerto siamo molto contenti nel complesso, veramente è stata un'esperienza entusiasmante. Lascia un po' di amaro in bocca l'assordante assenza di tantissimi candidati, sia i candidati a sindaco, sia dell'amministrazione in carica, insomma del mondo amministrativo e politico, si sono viste molte sedie vuote. Il presidente dell'Associazione Arezzo Autismo, Andrea Laurenzi, commenta così con amarezza la mancanza di personalità, sia pubbliche in carica che non pubbliche, del mondo politico aretino, considerando anche che siamo in piena campagna elettorale per il quinto concerto per l'autismo che quest'anno ha visto come protagonista Tosca, un evento a sfondo benefico con una delle cantanti più eclettiche del panorama italiano su un palcoscenico d'eccezione, l'Anfiteatro Romano di Arezzo. Il presidente dell'Associazione Arezzo Autismo, nonostante le sedie vuote, auspica comunque che i candidati a sindaco, nonché l'attuale amministrazione, abbiano sempre una grande attenzione nei confronti della disabilità, in particolar modo del mondo dell'autismo. Al momento importante, al momento del bisogno vero, della presenza, di farsi sentire vicino a noi, in questi casi spesso mancano le autorità. Quindi di questo ci rammarichiamo, non smetteremo però di chiedere azioni concrete di sostegno a noi.